Consideriamo una differenza di genere un'assurdità come è da sempre, finalmente usciranno fuori i talenti, la creatività, la visione di ognuno è applicata nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella vita di tutti i giorni intesa anche come professione, una occasione imperdibile ed indiscutibile di crescita personale. La vorrei quasi intendere come una aspirazione sociale, quindi la differenza di genere abolita è un percorso sociale che deve utilizzare gli strumenti di oggi e se vogliamo la tecnologia e il digitale sono lo strumento di oggi.